La posizione delle aree di protezione del sistema di atto pubblico è capitata di una cosa semplicemente semplice che capita a qualche volta nel corso dei cinque anni la seconda è stata sistemata un po' di questioni che è in distanza di anni riguardo delle proprietà su cui sono state eseguite delle opere pubbliche in particolare qui si tratta di sistemare una proprietà di pochissimi quadrati di terreno tutto è stato realizzato con una piste città di giuradine miglia per essere chiaro, per una ghiera, lì non fanno film, ristoranti, chiuri e infatti c'erano alcuni 167 quadrati di tutto il terreno che non erano mai stati acquisiti alla proprietà pubblica e quindi aggiuntavano presso i dettagli e i decenni di proprietà e quindi questo è quello che mi hanno fatto acquisire in questo terreno un po' di sicurezza di terapia la parola in cui ci sono delle persone grazie a tutti grazie a tutti come giustamente diceva il sindaco in un po' di tanto ci tocca arrivare al lato conclusivo di una materia che è iniziata nel 2004 quindi già nel 2014 quindi questa è una cosa che ci tocca fare è una delibera diciamo che va in questo senso il nostro parercio a favore nessun altro? devo passare a voi? specifico questo è un altro domenico nel senso che viene redatto dal nostro segretario tribunale per cui non ci sono spese a sostenere passo alla votazione appunto 25 domenica del giorno viste ciclami dei migliori avanti favorevoli 11 favorevoli contrari asseguiti doppia votazione per i migliori di esegibilità favorevoli 11 favorevoli contrari asseguiti approvato ora ci mangiare ci mangiare ppi mediagrò città ci mangiare quindi faccio ecco ecco sì ci mangiare ecco va dar